Il materiale genetico nel tuo sistema diventerà più debole nel momento in cui rendiamo la prossima generazione meno di chi siamo noi. Abbiamo commesso un crimine contro l'umanità. Hai sempre creduto che una volta che hai la Terra durerà per generazioni? Beh, ora non è così. La Terra può diventare un debito se non ci prendiamo cura del suolo. La Terra non sarà un bene. Sarà un terribile debito se non ti prendi cura del suolo. Ci sono abbastanza studi scientifici oggi per dirlo. Quanto sono forti il tuo corpo e il mio corpo? Non solo la forza muscolare, la forza essenziale nel corpo della nostra esistenza. Questo è determinato dal tipo di suolo, non solo da quello da cui mangi. Il materiale genetico nel tuo sistema diventerà più debole se il suolo si indebolisce. ci sono studi sostanziali che lo indicano. Ora, quello di cui stiamo parlando è rendere la prossima generazione meno di chi siamo noi. Nel momento in cui rendiamo la prossima generazione meno di chi siamo noi, abbiamo commesso un crimine contro l'umanità. La prossima generazione dovrebbe essere un passo avanti a noi, non dietro di noi. Ma questo è quello che stiamo facendo, perché una volta che il suolo diventa debole, il materiale genetico stesso diventa più debole di com'è. Il modo in cui ci viene dato dai nostri genitori, non lo tramandiamo così, perché stiamo camminando e vivendo su un suolo che non ha forza, perché questo corpo è solo il suolo su cui camminiamo, vero? Quindi i problemi, tutti generalmente sanno qual è il problema. In questo momento hai la terra, non hai alberi, non hai animali. Come ci andrà il materiale organico? Gli unici due modi sono le foglie dell'albero e i rifiuti organici degli animali. Questo è l'unico modo per arricchire la terra. Animali domestici, ci devono essere abbastanza animali per arricchire il suolo, altrimenti il suolo morirà. Qui, in una piantagione di caffè, ci sono sempre abbastanza alberi, perché hai bisogno dell'ombra per le coltivazioni. Quindi c'è molto fogliame che cade, c'è humus. Per favore, guida fino a Keirnagar, nemmeno fino a Maisor e guarda com'è il suolo. È morto o no? Guarda il suolo qui, cammini verso le montagne, raccogli un pugno di suolo, scendi a Keirnagar o Maisor, raccogli una manciata di suolo, vedrai che è davvero morto. Quindi l'idea è di portare l'attenzione sul suolo. Tutti quelli che potete influenzare dal 21 marzo per 100 giorni. Vogliamo che tutti parlino di suolo, parlino di suolo per 100 giorni sul pianeta. Quindi stiamo riunendo un sacco di influencer, scienziati, leader politici, capi di Stato, agenzie dell'ONU, tutti insieme, in modo che la conversazione del mondo per 100 giorni sarà sul suolo. Qualsiasi cosa tu scriva, qualsiasi messaggio, la tua email, Whatsapp, TikTok, qualunque cosa tu faccia, devi firmare salva il suolo. Tutto il mondo dovrebbe parlare di suolo, perché se non parliamo di suolo adesso, se non spostiamo la narrazione in quella direzione, ce ne pentiremo. Ogni scienziato responsabile nel mondo sta chiaramente dicendo entro il 2045 produrremo il 40% in meno di cibo, di quello che stiamo producendo ora. E la nostra popolazione sarà di oltre 9 miliardi di persone, va bene? Questo non è un mondo in cui vuoi vivere, dove c'è carenza di cibo, carenza di cibo del 40% e aumento della popolazione, non è un mondo in cui vuoi vivere, non è un mondo in cui vuoi lasciare i tuoi figli, quindi possiamo cambiare questo adesso, cambiando la narrazione, facciamolo accadere. Grazie a tutti!